L'acqua comunque si prestava molto perché è un elemento molto liquido, al di là del gioco di parole, ma è proprio un elemento che ha varie forme, quindi si può adottare a un sacco di situazioni. Elea ed Isse per AL Magazine in occasione dell'uscita di Acqua, parlo prima con Ele perché sono curioso, visto che è pubblicato un disco che è diverso da l'altro, anche dal punto di vista della scrittura. La cosa che trovo brillante è anche proprio tutta la sfera di parole che hai utilizzato, che c'entra con l'acqua, dalle cose più semplici come la materia dell'acqua da neve al resto, a oblo, che è comunque una cosa nautica, per arrivare proprio alla finezza di usare anche i nodi, che è un'unità di misura di quel mondo, per girarci intorno, ma per fare un disco che poi parla di relazioni tra esseri umani, che è una cosa interessante. Dove nasce il concept? Ecco, come hai detto tu, volevo proprio trovare delle metafore per parlare di tuoi temi quotidiani, l'acqua comunque si prestava molto perché è un elemento molto liquido, al di là del gioco di parole, ma è proprio un elemento che ha varie forme, quindi si può adottare a un sacco di situazioni. E tra l'altro mi fa piacere che hai detto di nodi, perché l'altro giorno proprio un giornalista mi ha chiesto come mai quello fosse l'unico titolo che non c'entrava e invece tu hai cantato, quindi mi fa strappiacere. Ci mancherebbe, tra l'altro si capisce che non c'è niente di fuori posto, è una scrittura molto ordinata e l'ordine di solito viene fuori da un pensiero che sta soprattutto, quindi non c'è dubbio che ci sia un senso ad ogni cosa. L'altra cosa che mi stupisce è che questa ricerca di liquidità è proprio una definizione anche un po', oltre che dei rapporti personali, anche della società, e si parla tanto in società liquida di rapporti liquidi tra le persone di fluidità in generale come concetto, che è una cosa che c'è nel disco, anche nell'indirizzarsi al prossimo, si capisce mai se è un rapporto di amicizia, se è più profondo, se è un rapporto parentale, se è un amore vicino, un amore lontano, un amore futuro, un amore passato. Questa cosa come nasce dentro di te? Cioè da dove arriva dal punto di vista della scrittura in sé? Ma anche quello credo che sia strettamente legato alla società, nel senso come hai detto tu al di là, adesso non è che voglio sempre citare Bauman, ma veramente da quel concetto lì poi di società liquida sono nati molti ragionamenti che sono stati fatti all'interno del progetto, e quindi sicuramente la scrittura comunque racconta la realtà quotidiana e il modo in cui si vedono le cose, quindi sono strettamente collegati entrambi. E per dis, invece, il passaggio dai lavori precedenti a questo musicalmente si sente, no? Noi ci eravamo visti in un momento non sospetto, ma avevi già spoilerato, attento perché vogliamo uscire anche un po' dal seminato. La vostra idea musicale è partita e siete diventati anche riconoscibili per quello, da un'idea di un po' di rap anni 90, o tardi anni 90, molto classico, usando una parola che trovo sbagliata, però è corretta in personale. Invece adesso esplorazione di nuovi linguaggi sonori, cose sempre anche un po' retro, però fatte con una di disca e fattualità. Invece che ricerca c'è stata della tua musica? Ma sicuramente comunque già quando abbiamo fatto Globo avevamo l'idea di fare cose diverse, di provare, non siamo mai stati fissi sulla roba classica, diciamo. Quindi penso che sia semplicemente la continuazione del nostro discorso artistico che si è sviluppata prendendo diverse strade. a noi piace un sacco sperimentare, quindi non ci mettiamo troppi limiti, cerchiamo di essere spontanei. Penso che semplicemente abbiamo seguito proprio i nostri gusti e abbiamo cercato di fare quello che più ci piace. Chiaramente non ci piace solo il rap old school classico, ma ci piace un diverso code. Sicuramente in questo progetto c'è stata più collaborazione a livello proprio di, come si dice... Produzione. Sì, produzione ma anche ideazione proprio delle canzoni. Penso che su Globo eravamo un pochino più magari beat, diss e strofe, le ha più o meno. Invece adesso c'è stato molto ragionamento a due teste, quindi... Quindi sì, diciamo che... Siete entrati un po' più nel merito l'une degli altri. Ma è nato in un luogo fisico particolare il disco? E poi riuscite ad andare in un posto per fare una cosa? No, in realtà è tutto molto frammentato, anche a livello temporale, perché ci sono dei brani che sono nati, tipo ad esempio Nodi, il beat è nato nel 2022 addirittura. No, vabbè, comunque avevamo appena... No, scherzo, avevamo appena chiuso Globo. Sì, quindi insomma è stato un beat che è rimasto lì e poi l'ho ripreso quest'anno e ci ho scritto. Invece altri brani, tipo Ecco Goccia è stato l'ultimo che abbiamo chiuso, che era super in ritardo, abbiamo fatto una rush assurda per chiuderlo. E sia io ho scritto la seconda strofa molto tardi, che il ritornello l'ho scritto un giorno prima della consegna, ma anche il beat l'abbiamo rifatto. Sì, ci sono tipo 9-10 versioni di quel beat. Sicuramente abbiamo lavorato un sacco alla produzione e all'ultimo secondo abbiamo cambiato tutto ancora, quindi sì. Quindi sì, quello è stato l'ultimo brano chiuso. Per dire che non c'è stato un logo preciso in cui abbiamo fatto tutto, però sicuramente i luoghi un po' cardine, cioè i punti focali sono stati il lago di Seo, perché siamo andati là a fare questa claudura, non so mai come chiamarla, vabbè. Momento di focus per l'FBI e lì sono nati un po' di brani e poi abbiamo registrato principalmente a casa sua, a Locarno, dove comunque c'è il lago, quindi dai, siamo. Oppure a Milano, insomma, è stato un po' questi tre luoghi. È bello che poi vengano citati i laghi. Nell'immaginario dell'Italia, il lago è veramente un po' un ultimo posto. Cioè l'Italia è circondata dal mare, dall'acqua salata, cioè quest'idea di acqua è presentissima nella nostra nazione, però invece il nord Italia, anche io sono nato su un lago, per cui sento tantissimo questa cosa di essere, di far parte di un ecosistema un po' diverso, che è fatto di tanta pioggia, di una natura molto spontanea, molto forte, di montagne e quindi di laghi. Per cui c'è un'idea dell'acqua che non è un'idea convenzionale. E' anche non soltanto un bene che arriva dall'alto, ma qualcosa che è la metà di 50, che è un invitato, che fa tutto intorno a qui. Ed è un'atmosfera che è anche difficile da spiegare. Sì, è vero. Infatti mi fa piacere che dici questa cosa, che capisci, perché come hai detto tu, è un ecosistema a sé, che è veramente difficile da trasmettere a chi non ne fa parte, perché veramente credo che uno specchio d'acqua, visto in quel modo, diventa veramente un punto di riferimento. che vuoi o non vuoi diventa proprio il luogo di ritrovo di tutta la città. E poi ti dà anche tante cose che magari non trovi in una metropoli, è una cosa che dico sempre, a livello anche riflessivo, eccetera. Certo. C'è uno spunto interessante, una cosa che hai detto, che l'hai chiamato specchio d'acqua. Nel mare non ti specchio, il mare è sempre in movimento. Il lago ogni tanto ha la proprietà di fermarsi, soprattutto i laghi piccoli, e di fare in modo di poterci si specchiare. È un aspetto letterario, se ne è parlato tanto di questa cosa. Nel disco c'è questa cosa del vedersi attraverso le proprie parole, di usare, sempre spomodando l'analisi e la sociologia, l'autoanalisi della scrittura, cioè del guardarsi dentro, di analizzare le relazioni in una maniera però più riflessiva. Per quello vi chiedevo se l'avete concepito insieme. Si sente che nella tua scrittura c'è qualcosa di separato, o così fortemente... No, questa me la devo vedere da sola. Invece qual è il tuo luogo della scrittura? Allora, sto provando a iniziare a scrivere in studio, perché a volte anche per una necessità, insomma, cioè, ci sta. Però non riesco, cioè, faccio molta fatica, perché vado molto a vibe, nel senso che magari un beat mi piace un casino, ma in quel momento non sono in quel mood e quindi faccio fatica ad autoindurmi una certa sensazione, preferisco tipo aspettare il momento. Chiaramente è un lusso che adesso mi posso prendere, magari in futuro non potrò più, dovrò svegliarmi un attimo, però ecco, sono molto più, diciamo, riflessiva quando sono da sola, ovviamente, anche magari in un posto dove non ho stimoli, perché mi distrago molto facilmente, e quindi devo essere principalmente, non so, tipo al buio, ecco, di sera scrivo molto bene, non devo essere in un posto preciso, sicuramente la natura aiuta tantissimo, però non ho sempre la possibilità di stare, soprattutto a Milano la sera, stare in giro a scrivere, forse non è la migliore idea, e quindi si dipende un po', però sì, purtroppo quando in studio non riesco a scrivere, però ci stiamo lavorando pian piano. No, ma sai che trovo un'altra volta molto a fuoco questa cosa nella contemporaneità, no? Prima avete detto, ah, questo pezzo l'abbiamo concepito un sacco di tempo fa, nel 2022 non era già il 2023, è passato un anno. E' normale che a questa volta la vostra carriera il tempo passi molto velocemente, e che abbiate una concezione della musica in generale molto molto contemporanea. In studio, scrivono in studio i rapper che vogliono sfatare, che hanno bisogno di sentire il beat a un botto di decibel, di essere contornati dalla musica, nella vostra visione in questo momento è più, no, aspetta, facciamo un passo indietro, diciamo una roba sfuga, piuttosto che urlarla, sia musicalmente che a livello di parole. E quindi ne fa di sé un concetto di rap molto molto attuale, ma molto anche internazionale. Come senti che viene recepita questa sua maniera di scrivere, che va più per dirla all'italiana, verso il cantautorato, verso qualcosa di un po' più, anche in India a volte, in modo da riscrivere? Sempre, beh, allora, innanzitutto già il fatto che X persone, tipo anche solo tu invece capisca veramente il viaggio, è una roba che non mi aspettavo in modo così immediato, perché, come abbiamo detto prima, è molto difficile trasmettere determinate cose, anche perché, cioè, oggettivamente noi ci rivolgiamo a una realtà, cioè nel senso, viviamo in un posto dove così poche persone, cioè non è che viviamo a New York, che dici già ci sono X persone che possono capire la vibe, è un po' più difficile esportare a quel tipo di mood. però sicuramente a volte c'è un po' di fraintendimento più che altro su il senso delle cose, nel senso che spesso mi dicono, su un pezzo che io ritengo mega conscious, super riflessivo, dicono, oh, che chill sto pezzo, mentre per me non è, cioè, chill è un'altra cosa, chill è tipo, non so, sono appunto al lago, così col sole, dico, ok, ok, e mentre invece un brano conscious è tipo peso, nel senso è molto sentito, quindi su quello c'è ancora un po' di magari, però è anche un fatto di tempo, secondo me, perché oggettivamente adesso abbiamo, aspetta, 14 brani in tutto fuori, cioè che non sono oggettivamente nulla, quindi nel senso, non pretendo che nessuno capisca, anzi, sono già super contenta così, quindi spero che anche con i progetti futuri, si, cioè la mia scrittura, e in generale la nostra produzione, cioè la sua produzione, mischiata alla mia scrittura, diventi più, più anche, miggeribile, insomma. Sì, ma guarda, è un discorso di tono di voce a volte, voi avete un tono di voce che porta al chill, anche se i contenuti a volte invece sono, frutto di un'ansia interiore, frutto di un movimento, di emozioni diverse, che magari in un altro periodo storico, sarebbe sfociato in rabbia, in urlare, in voglia, invece la tua presa a male, è più ovattata, ma anche qua c'è un po' di nebbia intorno, questa cosa, quella nebbia porta un po' al chill, alla riflessione, al godersi le tue esenzioni, e invece dal vivo, avete trovato una chiave, perché poi si diventate anche famosi, per portare uno spettacolo, a dare un testo, indipendentemente da questo neoclato di testo, che non è mai semplice, perché sono dei progetti che nascono un po' più, in studio, e con fiacchi in giro, altri che dicono, stavano di pompare con gli amici, avete trovato un balance, e forse è anche dovuto alla parte di produzione, che invece tende un po' di più a essere empatica, quando vi ho visto nel vivo, la musica è molto presente, e non c'è solo la voce, però una musica è molto calda, tra l'altro, secondo quello che dicevi l'ultimo fa, una cosa che mi viene detta spesso, viene spesso citato il lo-fi, e in realtà, non facciamo lo-fi, capito, quindi, quello è un esempio, proprio di, un sound che non viene capito, però sta schienendo sempre meno, e credo che comunque noi siamo stra-innamorati del contrasto che si crea, quella zona grigia, tra una cosa super arrabbiata, banger, e una cosa super morbida, ci piace molto giocare con i contrasti, in questo senso, e quindi, probabilmente anche nei live, anche le canzoni più tranquille, o più emozionali, emozionali, comunque hanno il lato più banger, per il quale poi in live funziona, o più danza in reach, ah, sì, esatto, il fatto di andare con quest'ultimo logo versus sono, ritaccano BPM un po' più alti, una ritmica un po' più da ballare, aiuta questa cosa, ed è stata una bella esplorazione per un produttore della tua generazione, verso un mondo che, da tanti punti di vista, è ancora molto forte, da altri, è veramente connaculato nel passato, cioè, il boom bap è sempre rimasto, c'è sempre stato qualcuno che lo faceva, la drum and bass un po' meno, sta ritornando, ci sono ancora dei capisaldi in giro, non è mai andata fortissima in Italia, di per sé, però, si sente che, quei due linguaggi si sono sempre parlati, anche nel tuo linguaggio musicale si parla, cosa hai ascoltato, per dire, voglio farlo anch'io, ma allora, io, ho scoperto, ho scoperto la jungle e la drum and bass, tutta la drum and bass degli anni 90, anni fa, e quando l'ho scoperta, proprio, è stato incredibile, perché, molte delle armonie, degli accordi che vengono utilizzati, in quelle produzioni, che venivano utilizzati in quelle produzioni, sono gli stessi, che mi sono un po' inventato io, e quando ho capito, che esisteva tutto un mondo, in quella direzione, ho detto, ok, allora ci sono, degli esempi, e, poi mi sono completamente innamorato, di quelle sonorità, molto UK, e da lì, è stato molto, diretto il tutto, tipo, quasi, drum and bass, ci si può rappare sopra, poi già, la drum and bass, appunto, come dicevi te, c'erano gli MC, già in anni 90, che ci rappavano sopra, è una cosa che in realtà, esiste, già esisteva, e quindi, vi da diffondere le cose, è arrivata molto spontaneamente, e tra l'altro, io, ho ricevuto anche molti stimoli, dalla musica tedesca, perché in Germania, la fanno tanto questa cosa, quindi, molto prima di qua, di qua in Italia, quindi sì, quello è stato con stima. C'è anche, qualcosa della cultura rave, post rave, All'interno di questa maniera, di aggregarsi, intorno a un suono, che, poi è la cultura di Sonosystem, che, fa da grande cappello, alle cose che ci piacciono, a me, la cosa che fa sempre, specie, è il fatto che, generazionalmente, e lo dico da ragazzo, con la barba bianca, voi avete avuto, la fortuna e la sfortuna, di approcciare la musica, in maniera non storica, quando avete detto, vi siete affacciati al mondo della musica, avevo detto, mi piace o non mi piace, non è nuovo o vecchio, siete già nella, nella generazione che ha scoperto la musica, non attraverso una collezione di vinuli, o di cd, ma attraverso il mercato digitale della musica, che è appianato, cioè, se io non avessi conoscessi niente di musica, mi apro un account, in qualsiasi, store di musica digitale, ho tutto, nello stesso momento, quindi non c'è più distinzione, con lo vecchio, c'è distinzione tra una cosa che mi muove, e una cosa che non mi muove, quello è figo, e si sente nella vostra musica, che passate avanti e indietro, senza difficoltà, trovando dei fili logici, che magari, per me sono più difficili da trovare, perché è un appoggio storico. Ma anche, anche perché forse, cioè, senza forse, sicuramente una volta, il senso di appartenenza al genere musicale, era molto più vissuto, cioè, sicuramente saprete, anzi, era proprio un fatto di, mi viene da dire, guerra quasi tra, tra geni, di identità molto forte, esatto, e quindi, noi non abbiamo questa cosa qua, perché siamo cresciuti appunto, come hai detto tu, in un periodo storico, dove è tutto mischiato, tutto liquido, appunto, per tornare, e quindi, quella è una grande fortuna, perché sicuramente negli anni 90, non ci saremmo mai potuti permettere, di fare una roba del genere, credo, cioè, di switchare tra, tra la roba drum and bass, roba e trap, a parte che non esisteva la trap, però nel senso, capito, in modo così fluido, quindi, quella sicuramente, è un elemento determinante, della sua produzione, anche perché, comunque, anche tipo, non so, in brani, magari, boom bap, ci sono dei piccolissimi elementi, tipo, non so, un sample vocale, preso da, un break, così, cioè, nel senso, c'è sempre quella, quella bella, quella bella miscela, quindi, cioè, quella è una grande fortuna, senza altro. E avete avuto anche la fortuna, di vivere, e di parlare di un genere, che parla tanto di città, una volta prima, un genere che, veniva chiamato, urban, una volta, però venendo da fuori, no, venendo a un posto, che invece racconta, di natura, di verde, di meno persone, anche una città, perché poi, a fine anche Lugano, un paesone, già Milano, no, anche le città italiane, non sono delle megalopoli, vero e proprio, però, hanno una tendenza più internazionale, invece, guardando da fuori, le cose, poi, ne si vedono anche, delle particolarità, e le si fanno a buone. Cosa c'è dopo? No? Avete fatto globo, avete fatto acqua, sono sicuro che, nella velocità, in cui fate musica, avete già un traguardo, proprio, anche se dovete ancora, portarmi in giro l'arte. Sì, sì, senz'altro, c'è un traguardo nuovo, però, abbiamo deciso, stavolta, di non metterci troppi, nel senso che, tipo, secondo me, il fatto di avere, un concept album, è mega figo, ma ti mette anche, molti limiti, perché, per dire, che ha già solo, non so, che io, è l'unico titolo, della tracklist, che non ha, un diretto collegamento, con l'acqua, all'inizio, non i canzzi, devo trovare, un ritornello, dove ci sia un elemento, beh, alla fine ho detto, ma fanguccia, nel senso, alla fine, non è quello l'importante, perché, comunque, all'interno del brano, ci sono un sacco, di elementi, che rimandano, con l'immaginario là, quindi, chi se ne frega, però, ecco, per dire, che sicuramente, il fatto di avere, un concept così, deciso, ti mette tanti limiti, adesso abbiamo, proprio voglia, di fare, sia di, sicuramente, di produrre, proprio, senza nessun obiettivo, e anche di fare musica, senza nessun obiettivo, perché, abbiamo bisogno, di un po' di spontaneità, che ci manca. E magari, poter uscire, con dei singoli, come, di solito si fa, uscire con, tot, pez, bam, tutti insieme, esatto, e voi avete, avuto la fortuna, di avere, avuto un abbrivio, un inizio, della vostra carriera, molto, semplice, nel senso, che, siete fatti tante spalle, con di fronte alle persone, tanta gavetta, dal vivo, e poi, l'opportunità, di costruire, un conceptabile, ma, come, forse adesso, è arrivato il momento, di ragionare, dei singoli, anche perché, voi avete, dentro di voi, una definizione, di pop, cose, arrivabili, cioè, avete voglia, di arrivare al pubblico, con le parole, con la musica, per cui, di essere un po', un po' più larga, con il punto di vista, quindi, forse, in traiettoria, c'è anche quello, l'opportunità, di giocare su, il fatto di, no, faccio una canzone, canto da sola, e poi racconta, senza dover raccontare, una cosa, tutto il mondo, esatto, tutto il globo, qui dai, sarà assolutamente divertente, show, sono sold out, per cui, chi, chi vuole venire, a vedere, c'ha già il biglietto in mano, e che cosa ci sarà, dentro, nei live, nei live, ci sarà, tutto quello che possiamo mettere, perché, come ti ho detto prima, non è che abbiamo, una discografia infinita, quindi, cercheremo di, portare al meglio, tutte, tutti gli elementi, della discografia, che comunque, essendo anche così pochi, credo che siano legati, a ogni brano, in modo molto, insomma, potente, mi viene a dire, quindi, ecco, cercheremo di, di portarli tutti, io sto cercando, cioè, stiamo entrambi cercando, di migliorare live, perché, è una dimensione, che ci interessa molto, e come hai detto tu prima, è molto importante, per, anche comunicare, col pubblico, trasmettere cose, che in cuffietta, non puoi trasmettere, eccetera, e quindi, sì, sto cercando un po', di allenare la voce, perché, ci vuole, lo senti come un'esperienza fisica, insomma, di andare dal vivo, sì, molto, perché, anche perché, io comunque, non ho molto fiato, cioè, nel senso, sto veramente, cercando di un po', allenarmi, e prendo proprio come una, sì, qualcosa di sportivo. Beh, per come vi ho visto io, che siete, molti pop da quel punto di vista, come formazione, DJ produttore, voce, that's it, that's all, no? Sì. Basato su voi due, sulla tua voce, sulla tua musica, cioè, deve essere molto fisico, incorporare, Sì. Adesso il palco, diverse decine di minuti, da fare i tuoi pezzi, anche la tracklist, no? Avete due prodotti fuori, e la tracklist, in qualche maniera, avete già fatto due, che sono le per le giù dell'album, e per farlo diventare un live, dovete anche trovare, dei punti di congiunzione, nei momenti di respiro, tutto il resto. Vi viene spontaneo? È una cosa che dovete provare, a vedere come si incassi, e non vede l'unico. Ma, cioè, in realtà, siamo molto attenti alla track, almeno, cerchiamo di, dare la migliore esperienza, possibile, anche attraverso, al mood, che ogni pezzo ha, nel senso che, a me piace il fatto, che alla fine, ci sia un po' il devasto, però anche all'inizio, deve, cioè, deve esserci un'entrata così, solo che, come ti ho detto, avendo pochi brani, non è che possiamo dire, scegliamo questo, cioè, è molto, molto curata, e precisa la, la ricerca, insomma, della tracklist. Ci sono un paio di sorprese, comunque. Benissimo. Che non diciamo, dovete venire ai live, mi raccomando. Anche perché, voi storicamente, vi fate accompagnare poco da altri, anche come nei featuring, c'è soltanto il featuring, di merissima sorta, in acqua, non ci sono partner di produzione, dritto per dritto, siete voi due, più, merissima sorta, perché tra l'altro, non è a caso, nel senso che, un'altra penna interessante, una maniera di scrivere profonda, che si è prestato benissimo alla causa, penso, che ci sta, non è che dice, mi sono preso un featuring, perché mi porta più, di user ascolti, soltanto perché funziona, per anno, e dal vivo invece, questa cosa non c'è, come capita di vedere, nella maggior parte dei concerti, che ci sono in giro, c'è un momento del featuring, dove, il main acting invece, sta un filo, un passo indietro, tu dà un po' di fiato, tranquillo, fa fare lavoro a qualcuno, voi invece, ve lo caricate sulle spalle, forse questa è anche la maniera, per empatizzare col pubblico, senza, infatti, appunto, grazie alle sorprese, che ci saranno, quest'estate, forse potrò respirare, un pochettino, però, il mio obiettivo, è comunque, di riuscire, dall'inizio alla fine, a reggere un palco, anche, in modo, più eccellente possibile, perché, veramente, per me, è una delle cose più importanti, e poi, comunque, siamo molto autocritici, quindi, cerchiamo sempre, di migliorarci, e alla fine, anche tutta esperienza, cioè, nel senso, solo facendo i live, si imparano determinate cose, quindi, niente, speriamo anche quest'anno, di portarci a casa, un bel bagaglio, di cose da non fare più, e cose invece da fare. Sarà assolutamente così, quindi, buon chill, e buon devasto, grazie alla fine, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille,